Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del pastore svizzero bianco, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterà il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato pastore svizzero bianco cosa sapere, che ti invitiamo a recuperare. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un uovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Ha un ottimo temperamento. Il pastore svizzero bianco è un cane molto affettuoso e fedele con la sua famiglia. In generale si tratta di una razza equilibrata e amichevole e quindi adatto ad interagire anche con i bambini. Ovviamente è importante educare i più piccoli ad interagire correttamente con il cane. Numero 2. Ha un pelo bello e facile da curare. Il mantello di questa razza è il loro principale tratto caratteristico, bianco, liscio e molto morbido al tatto. Oltre ad essere bellissimo da vedere è molto semplice da individuare in caso di emergenza perché si distingue molto bene dal paesaggio circostante. Inoltre questo cane non perde molto pelo e non ha bisogno di una toilettatura frequente quindi è relativamente semplice da gestire. Numero 3. È un ottimo cane da lavoro. Il pastore svizzero bianco in passato venne selezionato come cane da lavoro specialmente come pastore per greggi e questa caratteristica gli conferisce un'ottima predisposizione per compiti mentali e fisici. Questo cane può essere addestrato per lavori di ricerca e soccorso, assistenza a persone disabili o protezione e sicurezza. Prima di procedere con i contro facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste tre elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Suscettibile a malattie ereditarie. Essendo una razza che è stata sviluppata negli ultimi decenni il pastore svizzero bianco non ha avuto il tempo di sviluppare una varietà di linee di sangue e questo aspetto lo rende molto suscettibile alle malattie ereditarie. Le più comuni sono la displasia dell'anca, la displasia del gomito e la sindrome del colon irritabile. Numero 2. Ha bisogno di tanto esercizio fisico. Il pastore svizzero bianco ha bisogno di molto esercizio fisico per mantenersi sano e felice e per scaricare la sua elevata dose di energia. Ha bisogno di almeno un'ora di attività fisica al giorno, altrimenti potrebbe sfogarsi diventando nervoso e distruttivo. Numero 3. Ha bisogno di socializzare. È vero che ha un temperamento molto equilibrato, ma è anche vero che si tratta di un cane molto protettivo nei confronti della famiglia e del territorio. Per il pastore svizzero bianco è fondamentale un percorso di socializzazione costante fin da cucciolo per permettergli di imparare ed interagire correttamente con estranei e altri animali. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul pastore svizzero bianco. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un altro razzo da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!